Gentili telespettatori, buona giornata. Mamma mia che figura. Calenda arriva dove c'è un presidio della CGL e gli operai in presidio scappano quando vedono Calenda. Calenda prova a rincorrere, dice ma cosa state facendo? E quelli scappano ancora più veloce. Calenda prende e se ne va. E così siamo a Crevalcore. Il presidio si è interrotto quando è arrivato Calenda. Incredibile. Perché? Adesso ve lo spiego anche perché è incredibile. Carlo Calenda arriva davanti ai cancelli della Magneti Marelli. Gli operai e le operai hanno abbandonato il presidio con passo spedito, andando via correndo. A quel punto è partita una piccola rincorsa con il senatore all'inseguimento dei lavoratori in sciopero. Alla fine non è andato in scena nessun confronto. Così la CGL e le tute blu della FIOM hanno boicottato la visita di Calenda nella fabbrica di Crevalcore, in provincia di Bologna. La giapponese Klaxon Kansei, controllata dal fondo americano KKR, che ha deciso di chiudere con 229 posti di lavoro a rischio. Il fondo americano, peraltro insieme al MEF, sta predisponendo in questi giorni l'offerta per rilevare la rete Team. La polemica tra il leader di azione e il sindacato era nata sui social nei giorni scorsi, quando Calenda aveva attaccato il segretario della CGL ed ex numero uno delle tute blu della FIOM, Maurizio Landini. Secondo Calenda, il sindacato non avrebbe preso posizione a suo tempo sull'accessione di Magneti Marelli da parte della FIAT. La FIAT sta vendendo tutte le attività italiane nell'indifferenza generale. Dice Calenda. La sinistra e la CGL, da quando la Repubblica è stata comprata da Ilcana, hanno smesso di fare battaglia e nessuno dice più nulla. E questo è ingiusto e immorale. Per tutta risposta, la CGL l'ha definito l'ospite non gradito, davanti ai cancelli della fabbrica. La controreplica era stata del senatore che aveva confermato la visita parlando di intimidazioni non degne di un paese antifascista, dicendolo ovviamente in maniera ironica. E Calenda, davanti ai cancelli della fabbrica, ha ribadito la sua versione. Non sono qui a dire abbasso il sindacato, ma c'è bisogno di un sindacato indipendente. Giusto. Se ci sono rimasti male, mi dispiace, ha detto a qualche centinaio dei lavoratori che al momento del suo arrivo hanno iniziato un'assemblea sul marciapiede. Il dibattito duello sulla vertenza Magneti Marelli e sulla crisi dell'automotive non è andato in scena. Tra i contendenti schierati diversi uomini della Digos ad osservare la scena. Poche battute, poi Calenda, accompagnato dal senatore Marco Lombardo, è risalito in macchina. Allora, il sindacato politicizzato è ridicolo. Ridicolo perché vogliono far politica e non fanno il sindacato. Perché? Il sindacato dovrebbe occuparsi di vertenze sindacali, di rinnovi contrattuali. Questo è il core business del sindacato. Se il sindacato solo vuole essere invitato a Palazzo Chigi, Draghi non ci invita, Lameloni non ci invita, perché vogliono sentirsi importanti, vogliono sentirsi al centro dell'attenzione. Ma prima di tutto un leader sindacale come Landini, che ti organizza uno sciopero generale per ottobre, organizzato a giugno, su una finanziaria che non era stata neanche pensata e scritta, è oltre il ridicolo. Non era mai successo al mondo che un sindacato nazionale organizzasse uno sciopero quattro mesi prima di una legge. È una roba assurda. Come può essere preso in considerazione un personaggio del genere? Quando lo vedi ridi, non è che puoi prenderlo in considerazione come un interlocutore, ma neanche per decidere dove andare a mangiare la pizza. Uno che si inventa gli scioperi senza motivo non può essere preso in considerazione. E poi questa cosa di essere sempre invitati dal governo. Ma dove sta scritto che il sindacato deve essere invitato? Prima deve fare bene il suo lavoro, poi magari come premio il governo ti può anche invitare per raccontarti quello che sta facendo. Ma dato che abbiamo il lavoro povero in Italia, il 30% degli italiani sono in povertà lavorativa e un altro 30% sono quasi poveri, è la colpa di chi è? Dello zio Pino? La colpa è di chi fa i contratti nazionali. Sindacato. E non venite a raccontare la storiella Ma non è vero, i poveri che lavorano sono quelli senza contratto nazionale. Non è vero. Ci sono 22 contratti nazionali che hanno stipendi da povertà lavorativa. Quindi non venite a raccontare la solita storiella di sinistra Non è vero, non è vero, questo governo... Ridicoli, siete ridicoli. Mi riferisco a quelli che dicono sempre tutto il contrario di quello che fa il governo, di quello... Tutto giusto a sinistra e tutto sbagliato a destra. È ridicolo anche questo. Ecco, persone che pensano che di qua è tutto sbagliato e di qua è tutto giusto non sono credibili. Non hanno nessun tipo di credibilità. Ci sono cose giuste da una parte e cose sbagliate da una parte e dall'altra. Non può esserci l'area del bene e l'area del male. Non siate ridicoli, anche perché l'Italia vota in maggioranza l'area che definite del male. Ah, ma non hanno vinto le elezioni perché non avevano la maggioranza assoluta. Ah, ridicoli. La maggioranza assoluta non ce l'ha mai avuta nessuno. Nessuno in Italia ha governato con oltre il 50%. Nessun partito. Nessuno. Neanche la potente democrazia cristiana. Quindi, prima di rendervi ridicoli a dire delle sciocchezze, accendetevi, accendete il cervello e vedete che dite un sacco di bugie. Calenda non è come Landini, l'incommentabile. Non è come la Shline che starà giocando alla Playstation. Quello veniva lì per vedere realmente che cosa si potesse fare. Calenda è un intelligente. Voi a scappare come i soldatini su ordine della CGL? Somma, siete incommentabili. Quello è venuto lì, con il suo tempo, con il suo lavoro, è venuto lì per cercare di capire cosa poter fare e voi ti scappate. Ma, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ha assolutamente ragione, assolutamente ragione. Calenda. E vi è venuto pure a dire, guardate che la Repubblica, i sindacati, vi hanno abbandonato e voi che fate come i soldatini, tu, 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 tu e scappate. mamma mia che tristezza mamma mia come state mamma mia come state va bene grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie grazie